Ciao, buongiorno, sono di nuovo insieme a voi per darvi l'appuntamento consueto, quello del martedì mattina a partire dalle ore 9 con la nostra carrellata dedicata ai vinili. Mi sono un po' lasciata trasportare da quello che ho trovato nell'archivio e allora il primo che mi è venuto in mano è questo di Doctor and the Medics con questo brano magnifico che mi piaceva tantissimo. Poi sono andata sempre a cercare dei colori più o meno simili, rosso, giallo e mi ha portato a questo album che in realtà loro non li conosco e quindi sarò ben contenta di scoprirli insieme a voi. E poi mi sono lasciata immergere nel mondo, diciamo così, se vogliamo, delle fate e delle storie con i Concrete Blonde che in due album più o meno hanno scelto quasi lo stesso disegno simile o comunque colori e il logo classico, quello del sole. Anche loro non li conosco ma sarò ben contenta di scoprire qualcosa in più. Per cui come sempre, che dire, io vi do appuntamento a domenimattina a partire dalle ore 9 sul nostro canale YouTube. Se sapete qualcosa di più di questi artisti, prego potete scrivere insomma qualcosina oppure raccontarmi qualcosa della musica che vi piace. Vedremo in quell'oretta che saremo insieme di poter, diciamo così, condividere quella che è la passione per la musica. Per cui grazie come sempre, spero siate in tanti anche domani e vi mando un abbraccio e un bacio e vi aspetto con la musica e con i vinili qui con me domani alle ore 9. Ciao!